Continuo poi col dire che secondo me questo episodio sicuramente inciderà sulla memoria di chi l'ha vissuto in prima persona o di riflesso, per cui sicuramente sarà un episodio su cui occorrà una riflessione a livello nazionale, soprattutto alla luce dei feriti e dei presunti decessi che qui non sono ancora confermati, ma l'Australia sicuramente non metterà in gioco il proprio multiculturalismo e questa è la cosa che mi piace di questo paese, il fatto che punti alla coesione sociale. E un'altra cosa che vorrei dire è che l'Australia è un paese multiculturale, per cui è stato piacevole vedere come oggi non ci sia stato un accanimento verso una comunità etnica o l'altra, è un paese in cui appunto la società è assolutamente coesa, anzi c'è stata un'iniziativa di solidarietà su Twitter che è I will ride with you, cioè prendo un passaggio con te, torno a quei mezzi con te per proteggere quelle persone, soprattutto le donne con il velo da possibili attacchi e abusi. Io personalmente mi sono sentita tranquilla tutto il giorno, è una situazione drammatica, il risultato delle azioni di una persona che ha agito la sola e la maggior parte della popolazione sono convinta che avverta le stesse sensazioni, ovvero capisca che è l'iniziativa di un individuo e dunque non può cambiare la vita e instillare il terrore.